un'opera particolare da che ne sappiamo o chiederemo alle ragazze i due personaggi si chiamano Sugar Farfi e Palaran e sono Marta e Martina e passiamo ai microfoni e c'è stato un cambio di programma ma non ce l'ha quindi dovete fare così eccole a voi buongiorno a tutti signore signori siamo qui per parlare delle ragioni della superiore della razza Elf che abbassate questa musica fa schifo grazie e dunque la superiorità della razza patata vorrei dire noi Elf siamo una razza di bomba che tra l'altro anche se non si vede ma un grande si usa pure comunque la ragazza cosa bisogna fare fare i miei fiorellini attenta come parli altrimenti vedi dove te li faccio spuntare i fiorellini e comunque non so quanto sei brava a combattere con quel corpicino così secco beh a dirla tutta io sapevo che anche le farle fossero magroline tu quasi rotoli vorresti farmi vedere che con le alluci sollevano il tuo gran peso ma certo che si vuoi vedere? vediamo è solo un po' di ritenzione idrica ieri sera ho avuto dei problemi con il nettaro di ambrosia quando inizio a berla non riesco più a fermarmi e mi scondo solo a tutto il metabolismo si si come no sai qual è il vero problema di voi Elfie? che siete proprio antipatici e poi guarda che brutta faccia brutta faccia io? scusa quelli che per caso li hai visti bene? oh che schifo chi sono? credo siano esseri umani ma guarda quelle orecchie sono rotonde ridicole e che capelli noiosi già e se per questo non stanno nemmeno combattere e neanche le fate stanno combattere adesso non ricominciare scusa sono proprio permaloso stai continuando oddio scusa ma non lo faccio apposta mi viene naturale sono un po' ridicole a loro oddio no scusa non lo faccio più bravissime sono già tornata subito che bravi preparate queste ragazze vedi vedi lei è il genero degli original che lo sono anch'io allora visto che qua siamo fra originals raccontateci un po' i vostri costumi i vostri personaggi la cosa che si spiazzerate e bla 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 la mia come avete visto è una fatina pasticciona a cui piacciono tanto i dolci il rosa tenerosa io ovviamente sono un'elfa superiore una guerriera e viaggiando alla ricerca delle mie origini ho incontrato questa qua e mo lo ci ho appresso da cosa vi siete ispirati esatto io ho tratto ispirazione l'origine è Daniel della terra del vento del mondo e verso e la mia invece è una fata classica diciamo delle fiabe i costumi raccontateci un po' beh il bustino era già fatto l'ho visto mi piaceva il resto invece è tutto fatto a mano il costume in sé proprio come vestito l'ho disegnato e poi commissionato la salta mentre tutto il resto i pezzi di armatura il bastone così è fatto tutto a mano molto bello molto molto bello complimenti ragazze complimenti per la fantasia vedete che ci vuole della fantasia della passione dell'identiva anche a fare gli original perché questi personaggi comunque sono nati dalla vostra fantasia dico bene ecco quindi un'ora gli original e grazie alle ragazze grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti